La Regione Abruzzo annuncia un nuovo bando per la produzione nello stabilimento di acque e minerali Santa Croce. Nel bando è presente anche la clausola del mantenimento del livello occupazionale di almeno 50 unità. L'accordo è stato raggiunto attraverso un tavolo sindacale tra Regione, Sindacati e Comune. Ad oggi però la Regione ancora non è rientrata in possesso del canale di adduzione idrico allo stabilimento. Dopo ripetuti solleciti alla proprietà, il Vice Presidente della Giunta Giovanni Lolli annuncia maniere forti se la situazione non si sbloccherà. Manca un'ultima condizione e cioè la condizione di accessibilità per noi naturalmente ma poi anche per chi vorrà eventualmente partecipare alla parte di proprietà regionale di tutto quell'impianto. La parte di proprietà regionale è l'adduzione, cioè tutto quanto sta tra la sorgente e lo stabilimento che è di nostra proprietà. Attualmente questa parte è inaccessibile perché naturalmente è chiusa ed è chiusa perché deve essere chiusa ovviamente per ragioni di sicurezza e noi sono già quattro lettere che facciamo all'attuale gestore perché ci renda accessibile questo bene che è una delle condizioni del bando. Finora tutto ciò non è stato reso possibile. Io mi aspetto che adesso venga reso possibile. Se così non dovesse essere noi dovremo procedere attraverso l'autorità giudiziaria.